Tifosi bianco celesti ben ritrovati con Entella Time, notizia per non perdervi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la gara di ritorno archiviata a gara 1 con la vittoria del Palermo 2-1 al Comunale, è già tempo di pensare alla seconda sfida in programma sabato alle 21 allo stadio Renzo Barbero. Una prevendita che sta andando come da previsione benissimo, già oltre 30.000 i biglietti staccati, sarà un clima sicuramente molto molto bello e stimolante. La partita come raccontato ieri, oltre che sui Leven Sports, sarà trasmessa in diretta anche da Rai Play. Nel frattempo questo pomeriggio la squadra si è allenata al Comunale, domani mattina ci sarà la rifinitura, nel pomeriggio poi la partenza per Palermo in vista naturalmente della partita. Nel frattempo Fioccazzurro in casa Entella, Manchester infatti è nato Zion Levi-Cleur, figlio del nostro Gabriel Cleur. Mandiamo quindi un grande abbraccio a Gabriele e alla mamma Betani. Chiudiamo con un'altra notizia perché nel fine settimana Entella scendrà in campo al fianco di AISM, associazione italiana Sclerosi Multipla. Potrete sostenere la ricerca nelle principali piazze italiane acquistando una pianta di Gardenia. Noi naturalmente ci ritroveremo domani con la puntata della vigilia per ascoltare le parole del nostro allenatore Gennaro Volpe in vista del match contro il Palermo e per accompagnarvi a questa sfida seguendo i bianco celesti nel viaggio verso la Sicilia. Entella Time torna domani puntuale alle 19. Grazie a tutti. Grazie a tutti.